Buongiorno a tutti, ben ritrovati cari telespettatori di FanoTV, oggi è sabato 25 marzo e questa è la rassegna stampa del mattino in diretta alle 7.30, poi in replica fino alle 8.30, alle 9.10, alle 11 e alle 13.30. Poi naturalmente sul sito internet on demand in qualsiasi momento della giornata. Allora cominciamo come di consueto con il calendario del giorno, vediamo il santo di oggi, facciamo gli auguri, no non facciamo gli auguri perché oggi la Chiesa Cattolica ricorda l'annunciazione del Signore. Il sole è sorto alle 6.01 e tramonterà le 18.27 minuti. Il cielo sarà sereno, poco nuvoloso per quanto riguarda la giornata di oggi, vedete tutta la parte dell'entroterra, quindi le precipitazioni nelle ore pomeridiane con isolati rovescio temporali nei settori montani e medio collinari, in particolare quelli del centro meridione della regione. Dalla serata i rovesci o i temporali saranno sparsi da prima nel settore montano, poi andranno in estensione verso la fascia collinare e costiera. Dunque arriverà la pioggia però soltanto questa notte. Le previsioni invece per domani mattina, per domani domenica, ancora nelle prime ore della giornata di domenica, avremo rovescio temporali sparsi in esaurimento però già dalla mattinata, dal pomeriggio invece rovescio temporali sparsi in transito da nord verso sud, più insistenti prima sulla costa e poi nelle zone interne. Le temperature sono in diminuzione nei valori massimi. Allora ci sono anche dei venti, venti con raffiche fino a vento fresco in rotazione da nord-est nel pomeriggio di domenica con intensità di brezza tesa nelle zone interne e vento moderato domani anche lungo la costa con raffiche di vento fresco. Poi lunedì il tempo migliora, vedete il cielo sarà sereno, poco nuvoloso, ancora qualche debole fenomeno residuo soprattutto al sud, sia sulla costa che nell'entroterra, le temperature sono ancora in diminuzione. Il probabile consolidamento di un campo anticiclonico garantirà condizioni di tempo stabile per la maggior parte della prossima settimana. Dunque questa è la situazione del tempo, nei prossimi giorni adesso i giornali. Il resto del Carlino ed il Corriere Adriatico, come sempre le edizioni di Pesaro e Urbino. Due pagine, una pagina intera sia sul resto del Carlino che sul Corriere Adriatico dedicata all'incendio doloso a Fano TV. E allora questo è il titolo che riguarda il resto del Carlino. Per un attimo ho pensato, speriamo non sia finito tutto così, queste sono le parole che ho pensato evidentemente quando mi hanno informato che c'era un incendio nella sede della nostra emittente. Il conduttore racconta il retroscena dell'incendio alla sede di Fano TV. Questo è l'articolo di Tiziana Petrelli. La solidarietà all'emittente da parte degli amministratori, dei politici e dei cittadini, dobbiamo dire davvero tantissimi e questo ci fa piacere in un momento così difficile per tutti quanti noi. Questo è il resto del Carlino. Poi invece, sempre su questo argomento, il Corriere Adriatico, l'articolo di Silvia Falcioni. Hanno voluto colpire il Tg, attentato incendiario nella sede dell'emittente Fano TV e caccia al piromane, ripreso dalle telecamere di sicurezza, danni limitati grazie all'allarme di tre passanti. Il direttore fare in onda regolarmente, usciti prima solo per caso e in effetti così è stato. Per esempio ieri siamo rimasti qua fino alle 9 di sera. Mai ricevuto minacce, abbiamo sempre e solo raccontato i fatti. Qualcuno non ha gradito. Solidarietà da politici, sindacati e cittadini, la condanna del sindaco Seri, la visita di Minardi, la nota dell'onorevole Ricciatti. Tanti, davvero tantissimi. Ieri sera gli ultimi due attestati di solidarietà sono arrivati quasi vicino a mezzanotte. Alle 11 di sera è arrivato anche quello del Sigim, che ha fatto molto piacere davvero, quello del sindacato dei giornalisti marchigiani, così come quello dell'ufficio comunicazioni sociali della diocesi di Fano. Queste, dunque, le due pagine che si riferiscono all'attentato incendiario. Andiamo a vedere invece il resto dei quotidiani. Tornando sul resto del Carlino, il Fly Club vola fra i grandi. Dopo dieci anni entra fra gli aeroclub d'Italia in sodalizio con il CONI. Ieri presenti tutte le autorità civili e religiose. Dunque un riconoscimento, dopo dieci anni di onorata attività, nell'ambito del volontariato di protezione civile e la promozione della cultura del volo. Pochi giorni fa il Fly Club di Fano è entrato ufficialmente a far parte della federazione degli aeroclub d'Italia. Il 31 di marzo, invece, Fano nascerà Aset Spa. Dunque questa volta è fatta, giovedì pomeriggio, con la firma davanti al notaio dei due presidenti, auspici per Aset Holding e capodagli per Aset Spa, è nata la nuova società pubblica dei servizi, che continuerà comunque a chiamarsi Aset Spa, perché è frutto della fusione della holding nella spa. Sui parcheggiatori abusivi c'è la nota dei fratelli d'Italia che torna a sollecitare un'ordinanza anti-accattonaggio, una vera attività criminale. Fusione dei comuni, sentenza a maggio. Il Tar si esprimerà sulla richiesta dell'Associazione di Montemaggiore, non si è espresso sulla richiesta di sospensiva, ma ha fissato per il 12 maggio la discussione sul merito e in quella data si andrà direttamente a sentenza. Dunque una cosa rapidissima. Ancora dal resto del Carlino, la pagina di Urbino, il Comune pulisce la città, viene fuori di tutto, è trovato anche un rifugio abbandonato, quindi ci sono grandi pulizie di primavera nelle scarpate attorno alla città di Urbino. Ieri mattina gli operai stavano eliminando arbusti e sterpi in via Giuseppe di Vittorio, sotto il parco della Rimembranza. E quindi pulizie di primavera. Poi la pagina principale invece del Carlino di Pesaro, la fotonotizia è per la notte dei saccheggi, furti a raffica nella zona industriale di via Pantanelli. Mariani Moto, quattro colpi in tre anni, è disperato ora. Dice ancora da me, si domanda. E quindi guardate come hanno, più o meno la tecnica è sempre la stessa, se non entrano dall'ingresso principale fanno un foro nei locali attigui, quindi ecco, più o meno la tecnica è la stessa. I super stipendi invece dei dirigenti ASUR, in tanti sopra i 130 mila euro lordi annui, e primari volano con l'attività privata interna. E questo è il titolo sotto la testata. Andiamo adesso, torniamo sul Corriere Adriatico, andiamo a leggere la pagina principale. Giro di vite sulla droga al Parco Miralfiore di Pesaro. Il sindaco incontrerà il questore, si studia anche il daspo urbano, così come viene utilizzato per lo sport, per gli stadi. Più controlli al Parco Miralfiore, dunque per contrastare le attività di sicurezza, che creano problemi di sicurezza percepita. Ne discuteremo presto in un incontro con il questore, le forze di polizia. C'è stata anche una tappa al Parco Miralfiore, nel tour effettuato ieri dal sindaco Matteo Ricci, nel quartiere di Villa San Martino. Fanno TV e caccia al piromale, sempre in prima pagina. Ferri volevano colpire il Tg, l'attentatore ripreso dalle videocamere, danni limitati, il direttore in onda regolarmente, solidarietà trasversale. Poi attenzione, torna l'ora legale. Stanotte le lancette dell'orologio dovranno essere spostate avanti di un'ora, dalle due alle tre. A proposito, qualcuno diceva, nelle immagini abbiamo visto l'orario non essere coincidente. Sì, in effetti nell'orario che si vede nella videocamera di sorveglianza è rimasta l'ora legale, quindi chiaramente quella è un'ora avanti rispetto all'ora in cui ci troviamo ancora oggi. Quindi tutto a posto, tutto nel senso, c'è un'ora avanti rispetto ad oggi. Allora, le altre pagine. No la fusione, il TAR decide a maggio, sempre sul Corriere Adriatico, giudicato ricevibile il ricorso di Montemaggiore Resiste, la discussione è stata fissata per il 12 maggio, intanto si infiamma la corsa per il sindaco di Colli al Metauro, ma Uguccioni si sfila, l'ex sindaco di Saltare, dice largo ai giovani. Gli oppositori pronti a nuove assemblee, chiederemo anche un incontro al prefetto. Poi andiamo sull'altra pagina del Corriere, San Patrignano, San Patrignano dagli studenti, mai schiavi delle droghe. Campagna We Free con il Tribunale di Pesaro, la comunità è stata ospite dell'Istituto Battisti di Fano. Sotto invece la fiera di San Bartolomeo, quella che si svolge a Fano dal 24 di agosto in poi, due o tre giorni, c'è stata una richiesta formale al Comune di Fano da parte della Conf Commercio. Qual è la richiesta della Conf Commercio? Cioè quella di spostare una parte della fiera di San Bartolomeo, che tradizionalmente si svolge appunto il 24 di agosto, dalla zona del mare fino al centro storico, quindi al centro storico. Una parte di questa per coinvolgere anche un po' e per dare un po' di vita evidentemente al centro, che d'estate forse un pochettino soffre, ma certamente il mare attira di più. Aeroclub Fano Decollo Avvenuto, ecco gli specialisti delle missioni, costituita a Fano l'associazione del comandante Cecchini, collabora con l'aviazione militare. A Gimarra avremo un ghetto nuovo di Zecca, il Movimento 5 Stelle ribadisce la critica per l'intervento del Fondo Cives e segnala il caso di Bellocchi. E poi ancora dalla Valle del Cesano, la frana di Orciano, Tagliolini, il presidente della provincia di Piesa Urbino, chiude lavoraggine. L'accordo dice entro la fine del mese. Il cratere di Orciano vede la luce, il presidente e il commissario fissano l'Assemblea cittadina. Il lavoro atteso da 17 mesi costa 330 mila euro e dovrebbe terminare entro il 4 di agosto. Per la TOSAP invece siamo a Mondolfo, riscossioni senza adeguate informazioni, 5 Stelle attaccano il Comune sulla gestione delle pubbliche affissioni. I lavori fino al 6 di maggio invece sulla statale 73bis, attenzione questa è una comunicazione importante soprattutto per i tanti automobilisti che si muovono in superstrada. Allora, ci sono dei lavori di manutenzione sulla strada statale 73bis di Bocca-Trabaria tra Lucrezia e Fano. Questo cantiere inizierà lunedì e dovrebbe essere completato, almeno così sono le previsioni, entro giovedì 6 maggio, quindi insomma ci sono parecchie settimane di fronte. Sarà chiuso anche lo svincolo di Fano Sud, ma i lavori interesseranno gli svincoli che vanno da... di Lucrezia e Fano, ok? Quindi tutto il tratto che sta tra Lucrezia e Fano nella superstrada verrà interessato da questi lavori di rifacimento del manto stradale, ok? Da Senigallia invece la butta, chiude ma non si arrende, guerra dei decibel, della musica dunque, del volume, prima estate senza la musica sotto le stelle dello storico locale in via Ugo Bassi, lo staff si trasferisce tutto al Verdemente e organizza una grande festa per l'inizio della stagione. Sotto invece l'addio a uno storico ristoratore, aveva 69 anni, Rolando Rotoloni, morto nei giorni scorsi, storico ristoratore con un passato del gelatiere, da tempo insieme al fratello Riccardo gestiva il ristorante ai veri sapori a Casine di Ostra. Mi pare di aver letto tutte le pagine più importanti per ciò che riguarda la nostra segna stampa, anche per il tempo che abbiamo a disposizione, naturalmente i giornali come sempre sono in edicola e sono pieni di pagine, pieni di notizie, quindi vi invito ad acquistare anche i giornali. Noi ci fermiamo qui, vi auguro una buona giornata, questo è il numero di telefono invece che vedete in sovraimpressione per le vostre segnalazioni, 338 49 68 250, soprattutto con WhatsApp, dove potete inviarci i vostri messaggi, le vostre foto, i vostri video, segnalazioni che per noi sono sempre molto importanti. Chiudiamo qui dunque la rassegna stampa e anche questa settimana piuttosto impegnativa per noi, vi auguro un buon sabato, una buona domenica, noi ci rivediamo lunedì mattina. Grazie a tutti.